volevo ascoltarmi un podcast non so più cosa ascoltare ma no no guarda un po' non ho tempo un po' non è che ho trovato ah ma quello su youtube cdb su youtube chiacchiere da fare si si youtube allora si mi ricordavo neanche dove era ma chi sono questi due ah non ho ascoltato ma deve essere quelle robe lì fatte un po' in casa e poi tra l'altro cdb cos'è non è quella roba delle droghe leggere consentite quelle col minimo di cannabis si è cbd quello no eh sì esatto ma non c'entra niente no ah il cbd non cdb ah ok allora mi sono confuso io te l'ho detto che non ci ho curato bene un podcast a scazzo ma penso di sì sai gente così che parla un po' ma fanno ridere guarda l'ho ascoltato ma secondo me no magari se non ridi con loro ridi di loro sai come quindi cdb cbd cdb non lo so mi sembra sia la sigla di un qualcosa chiacchiere da bar ecco può essere ma può essere chiacchiere da bar eccoci dopo una lunga pausa di non lo so forse un sei mesi abbiamo registrato a milano l'ultima un anno forse però un anno ci mesi undici mesi undici io l'altro giorno mi ero detto ma a quant'è che non facciamo una chiacchierata da bar e ho ricordato esattamente il modo in cui mi sentivo dopo l'ultima avevo perso un po di fiducia in questo progetto ma non per per l'ospite per sai molto spesso abbiamo un po di velleità non c'è tanta tanta passione in iniziare qualcosa e poi sfuma è difficile quei podcast o con tante cose nella vita di continuare a essere costanti però allo stesso tempo quando riconsiderato di fare una puntata di recente questa puntata qua quasi il ritorno il ritorno al podcast è stato sorprendentemente eccitante l'idea di ritornarci e non di buttare l'idea nel cesso è strano questo questo quando ti è mai capitata una cosa del genere Enrico tipo che non ci credi più tanto a qualcosa la lasci andare e poi il ritorno diventa quasi sì 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 diverse volte perché in realtà questi progetti che hanno sempre un che di artistico comunque se non altro delle velleità di fondo c'è sempre un coinvolgimento poi emotivo personale sia di tempo di risorse di energie ma anche un po di di mettersi in gioco quindi c'è sempre quella fatica lì da una parte che che è sempre un uscire no dalla cosiddetta comfort zone e quel mettersi in gioco che a volte appunto ti porta poi a a rimanere deluso magari anche semplicemente con te stesso ecco di quello che ti aspettavi tu di te spesso o di qualcosa al di là di come vada realmente il progetto quindi quella cosa lì un po c'è che che torna al momento in cui torni a non lo so un po quella sorta di rapporto che magari certi io vi faccio una metafora un esempio certi sportivi hanno quello sport nel senso che vogliono smettere però poi quando smettono devono ricominciare perché gli manca quel qualcosa no è probabilmente non dico che si debba avere questo rapporto qui con quello che sono i podcast la radio bene o male le dimensioni artistiche però c'è chi ce le ha e io penso che che io e te forse ce l'abbiamo molto simile da questo punto di vista questo rapporto un po del vivere la difficoltà al tempo stesso far fatica starne senza in un certo senso e poi una cosa io parlo come come sempre con te senza peli nella lingua quel sentimento strano prima di questo probabilmente anche tu forse più di me visto che sei l'ospite di chiacchiere da bar sanotte però un momento prima sempre scoglionato tipo non ho voglia perché ti capita questa cosa qua cioè adesso questo è il formato più semplice e più divertente del podcast che noi facciamoci è praticamente una di quelle conversazioni che faremo comunque io e te abbiamo deciso di metterle su internet per qualcuno però dico un momento prima mi scapita spesso ma perché ma non vuoi ti capitano queste cose intanto sì 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 a me guarda capitava mi è capitato diverse volte con quelle feste dance no che che facevo che che facciamo ancora in realtà perché ne ho fatto un paio insomma di di recente quindi sentire un po' questa cosa ma che palle ma le ultime viene meno gente ma è sempre la stessa roba boh tutta questa gran fatica sto stavo sei che poi si va a letto tardi il giorno dopo si sta anche poi non è il mio lavoro principale no quindi è sempre un valore di più in cui dici anche boh in realtà non è indispensabile farlo chi me lo fa fare poi dopo quando parti ci prendi gusto ti diverti la gente balla e e che quindi svolti dici ok andata sta andando e capisci il senso di tutto quello che c'è prima però fino a quel momento lì che palle non so voglia perché l'abbiamo fatta mi lascia sempre trascinare potevo a dire di no e perché poi ti devi adesso fatto riguardo a le feste dance o altre cose che ti in cui ti rimetti in gioco come detto tu prima come fare un podcast o per per quanto quello che stiamo facendo adesso sia abbastanza naturale noi lo facciamo comunque però naturalmente c'è la variante che probabilmente probabilmente qualcuno ci ascolterà quindi se non altro che un algoritmo oppure un avvocato che cercherà di usare tutto questo contro di noi quindi se non altro stiamo attenti da questo punto di vista però come dire è importante questa cosa qui perché ci abituiamo sempre non siamo abituati a stare tra la gente sempre poi forse con la pandemia anche di meno quindi quindi ributtarsi rimettersi in gioco come mi immagino questa roba della festa dance in cui tu devi lasciare il tuo appartamento a pieve e devi prendere la macchina devi andare lì e probabilmente non arrivi ubriaco cioè arrivi molto sobrio come dire molto vigile o mediamente vigile in una situazione che ha centomila orarie quindi a volte ti è capitato prima della festa dance dire ma non voglio stare a casa e guardare un film sì sì assolutamente colgo l'occasione insomma per salutare che non credo mi ascolti ma se mai capitasse il compagno di serate gherry dj alla negra fegerardo gotti ecco così un po di visibilità e sì anche perché insomma è bello è che è una festa nella festa per gli altri per te che ci sei dentro magari ti diverti ma comunque sei a fare qualcosa sei a lavorare di fatto al di là del fatto che non sia la mia professione comunque è un lavoro quella cosa lì ecco a un valore economico nel mercato al di là del fatto che a volte l'abbiamo fatto magari con un compenso con un rimborso a volte anche gratis per mille motivi però c'è uno sforzo del mettersi in gioco anche quando comunque è semplice come appunto tornando a questo caso di questa nostra chiacchierata chiacchiera da bar anche quando c'è una semplicità c'è un qualcosa però il fatto che ci sia come dire un microfono acceso in questo caso lì un impianto con delle luci con un microfono con una console eccetera c'è una prestazione che stai facendo per altre persone che sia una che ascolti per caso che siano 200 che entrano in sala ci sono altri e quindi per quanto sia una cosa naturale semplice il modo di che di approcciarsi deve tener conto di un'altra persona che non è nella nell'amicizia tra me e te o tra me il bel bongeri dj quindi c'è quella fatica lì appunto tornando a questa cosa delle volte delle volte non hai voglia anche per qualcosa che metti in piedi sempre con un certo anticipo anche chiacchiere da bar l'abbiamo organizzato un po di giorni fa no queste feste dance hanno sempre un preavviso almeno di un mesetto di solito quindi il momento in cui tu un mese prima dici sì ok facciamo non sai come arrivi quella sera lì quella sera lì magari c'è i cazzi e mazzi del mio tipo e vorresti lasciar perdere paradossalmente rispetto ad altri tipi di lavoro dove puoi fare call in seek oppure metterti in mutua oppure spostare l'impegno col cliente lì la festa ormai c'è cioè non è che poi puoi saltarla quindi devi far fronte alle tue responsabilità e metterti in gioco è lì i cazzi tuoi sei scoglionato devi farlo che poi tra l'altro penso che non avrei neanche modo di non non sei uno come gli altri che nella festa devi stare devi stare insomma devi portarti a casa alla fine tutte quelle cose lì però riguardo questa roba questo tuo uno dei tanti hobby che hai lavori o lavori che magari come posso chiamarlo aiutami tu come questa occupazione salto aria eurozioni è passione ecco come ci sei finito e poi ti faccio altre domande sono curioso perché ne avevamo già parlato passato tutte volte siamo visti però non ti ho mai chiesto qual è stata la genesi com'è che se e cosa fa esattamente quindi come ci sei finito e cosa fa esattamente la maggior parte delle volte ma guarda è nata proprio dalla dalla passione nel senso che adesso qui saperebbero però come come tanti giovani della della pianura padana e non solo alla fine una cosa prettamente italica secondo me chi è della mia generazione sono dell'ottantaquattro quindi è cresciuto con la musica dance quindi quel genere lì adesso cito un po gg d'agostino prezioso gabri ponte il 65 giusto per dire i nomi più conosciuti ma ce n'è una marea di cui tra l'altro tantissimi italiani ma non solo per comunque un genere noto anche come italo dance che però deriva un po dalla euro dance che prende tutto dire un filone che nasce un po da quella che era la la techno dei primi anni 90 verso rotterdam e poi è generato in un genere molto più ballabile musicale molto più melodica ed è un genere che bene o male da la metà degli anni 90 circa fino ai primi anni 2000 quindi ha coinciso con quella che era prima la mia adolescenza delle scuole medie fino agli anni delle scuole superiore puoi dire quindi coincide proprio con una fascia di età e per me tanti altri che sono quelli fondamentali se vogliamo della della vita della scuola i primi amori eccetera eccetera tutto tutto quel periodo lì della teenage no citando il termine inglese quindi è un genere che a me è sempre rimasto nel cuore a me tanti altri amici c'è sempre piaciuto e ancor prima che vivesse questa seconda giovinezza che sta vivendo adesso in questi anni venti ma anche già dopo qualche anno prima insomma e noi abbiamo da subito sentito la mancanza di un genere di questo tipo quando a metà degli anni 2000 era esploso il genere della house music anche lì che non era nuova però era un ritorno della house e quindi erano sparite completamente queste sonorità dei sintetizzatori melodiche questo cantato a volte in italiano a volte in inglese questo genere comunque pop alla fine o comunque parecchi svariati pop e quindi ci siamo organizzati fin da subito per cercare di mettere in piedi di queste feste per far riprendere questa cosa in realtà con pochi e scassi tentativi perché cercavamo sempre di fare delle feste private però con persone eccetera non sono mai riusciti a fare veramente la festa che volevamo con tante persone tante cose per mille motivi perché citami qualche motivo sono sicuro che sono interessanti allora il primo è sempre il posto un po perché trovare il posto un posto per fare una festa con più di 20 persone ci vuole una casa grande qualcuno che si prenda la responsabilità e oddio facciamo casino e se viene la polizia e se vengono i carabinieri e tutte queste cose questo è il motivo principale al quale poi si collega con un discorso di bar nel senso che se sei in 20 persone parliamo poi di epoca di anni 2000 cioè anche raccogliere soldi per fare una festa adesso ci sono le app in cui ci si passa i soldi fai in un attimo all'epoca non è che ci facevamo un bonifico per darci 10 euro quindi però al tempo stesso sai tutti un po squattrinato universitari chi è che ci mette fuori non so 200 euro per fare una spesa oggi per uno che lavoro dio vabbè metto fuori 200 euro mi fido di voi li raccogliamo all'epoca nessuno quindi c'erano tutte queste dinamiche tecniche oltre che l'impianto ma quelle si risolvevano anche in un modo o nell'altro però queste dinamiche proprio legate agli aspetti del luogo del del bere che comunque bere parte integrante poi di una festa l'aspetto l'aspetto bancone l'aspetto drink al di là che ci si debba ubriacare o meno e non è però l'aspetto del sociale anche il bere quindi per questi motivi non siamo mai riusciti ma quando è nato facebook abbiamo messo in piedi ma così un po nascevano mille gruppi facebook di mille motivi posti ricorda che tu l'epoca delle il gruppo dei nostalgici non so del del caffè all'alba e poi di andare a letto ma io mi sono accorto che ho aperto un casino di gruppi ecco io il gruppo di tom sellec il gruppo dei ogni volta verso il 2010 2011 ogni volta che mi piaceva qualcosa un casino tipo vero fissato all'epoca magari coi roxy music o magari con qualche altra cosa non mi ricordo tom sellec mi ricordo piaceva come attore quello aprivo un gruppo e ancora oggi basta e ancora oggi mi arrivano ogni tanto gente che vuole essere accettata per entrare in un gruppo in cui io non posto nulla cioè non c'è nulla quel gruppo non l'ho mai tenuto vivo a parte il giorno in cui l'ho aperto sì mi ricordo era erano quelli i primi anni di in cui su facebook si facevano tante cose così vai avanti dicevi allora quindi era quell'epoca lì e lì insomma è nato questo gruppo un po dei nostalgici di questo tipo di dance che in veramente pochissimo tempo è arrivato a raccogliere una roba tipo 300 persone ma senza che l'avessimo promosso la stessa dinamica che stai raccontando tu ora cioè la gente non so come lo trovava entrava e anche iniziava a pubblicare canzoni dance di vario tipo insomma ed era la conferma di quello che noi già come dire avevamo intuito probabilmente o comunque insomma che 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 sentivamo che non eravamo soli e a tante persone mancava questa musica e infatti fin già dalla fine degli anni zero quindi 2008 sono è partito un filone revival seguendo poi quelle mode quei cicli della moda in cui bene o male una cosa prima va di moda poi viene derisa poi dopo come dire viene rilanciata perché è un po ipster alternativa quindi ritorno in voga perché è ironica e poi dopo ritorno in voglia di moda quindi eravamo già come dire fatto il mezzo giro di orologio ed eravamo già in quella fase in cui magari per ridere alle feste si rimetteva su gigi d'agostino pure prezioso però al di là del ridere c'era anche chi veramente poi ballava e e quindi stava un po nascendo sta cosa in virtù di questo insomma ci abbiamo creduto e nel 2010 abbiamo messo in piedi questa prima festa ma così proprio provandoci c'è c'era un locale ci ha dato bene o male insomma il locale chiaramente ci metteva servizio bar ci metteva il posto pagava la sia e pagava tutto quello che doveva pagare per essere in regola e noi abbiamo fatto da pr e questo gary dj faceva da appunto di già idea e da lì siamo partiti abbiamo visto che funzionava e io un giorno una di queste prime feste mi sono improvvisato vocalist prima ben o male le prime feste facevo solo da pr su facebook quello che adesso sarebbe fare social media manager ecco all'epoca era un pr raggio più che altro e anche perché c'era ancora molto offline nella cosa molto messaggi personali inviti su email no c'erano ancora delle cose che adesso e quindi visto che c'erano finito una discoteca più grande proprio un posto che in passato fu una discoteca e per chi ascolta magari della zona è il donkey ovvero donkey shot di galliera provincia di bologna locale tra l'altro storico e adesso è pizzeria ancora serate morse è pizzeria all'epoca insomma un posto che hanno suonato gigi d'agostino hanno suonato gabriponte grandi nomi anche della dance italiana e niente quindi lì dentro ok ci stava di di prendere un microfono e cercare di fare un po da vocalist che poi era più che altro una sorta di parodia o imitazione o comunque più un qualcosa di radiofonico se vogliamo di commento tra un mix e l'altro per animare un po la serata ecco ci stava bene ha funzionato abbiamo visto che è stato gradito se non altro la gente non è uscita o nessuno mi ha urlato dandomi del coglione come invece avviene in altre discoteche verso i vocalist e quindi da lì ho continuato io mi sono divertito agli altri bene o male del gruppo faceva piacere all'epoca eravamo un gruppo di cinque organizzatori poi siamo passati col tempo a due per vari motivi e quindi da lì è cominciata questa cosa cosa faccio oggi più o meno non si discosta molto da quello che faceva allora cioè essendo in due il lato un po organizzativo è tutto in mano a noi quindi curiamo un po tutto l'aspetto promozionale in collaborazione con il locale principalmente tramite social media budget promozionale pressoché zero viaggia ancora molto di passaparola ma ci sono alcuni gruppi di affezionati gli appassionati di dance che arrivano anche da diverse parti dell'emilia romagna ma gente che fa anche molti chilometri perché è una festa un po di nicchia se passiamo soltanto il genere quel genere lì non passiamo altri generi non facciamo ogni tanto c'è una canzone così ma non è che ci mettiamo a suonare le canzoni dell'estate 2022 così per far contenti che arriva e quindi è quello che un po è il mio hobby chiaramente abbiamo quest'anno abbiamo fatto due feste stati anni qui non abbiamo fatto sai il covide eccetera ma si va principalmente una cosa di qualche testa l'anno ecco per intenderci quindi tu e da 10 un 12 anni o molto di più che più o meno sottorialmente 12 12 12 12 anni adesso naturalmente per gli avvocati che ci stanno ascoltando non faremo i nomi naturalmente però una da totale non so non saprei da dove iniziare queste cose qua immaginate una festa che organizzo io così in casino vorrei sapere quali sono quelle quelle cose che vuoi e quelle cose importanti a cui bisogna veramente badare per evitare casini quando si organizza una roba del genere di questa mole che hai imparato col tempo e se è possibile se ti viene in mente qualche incidente senza fare il nome qualche incidente nel senso dell'organizzazione che poi magari è stato raccontare che si può raccontare si può raccontare magari sì e quali sono quali sono gli errori che non si devono fare su che cosa riguardano e poi se ci racconti qualcosa sì ora la prima cosa è proprio guardare il calendario e non soltanto che giorno è se è un lunedì o se è un sabato ma guardare il calendario di quello che ci sarà in quella giornata lì e questo è un lavoro che si può fare soltanto conoscendo cercando di conoscere informandosi sul posto e quindi quali sono le altre feste che ci sono se ci sono sagri eventi banalmente può anche essere un matrimonio di una delle persone che si porta dietro le tue feste sempre 40 50 persone quella volta lì se le porta il suo matrimonio quindi cercare di capire che la data sia buona e che non abbia una concorrenza diretta e questa è la prima cosa e è chiaro che poi nel tempo sbucano le cose ma se tu intanto hai creato come dire un potrei dire un brand ma nel senso sei di una festa che ha un certo tipo di riferimento tu fissi per tempo il tuo evento eviti anche che poi qualcuno di o delle tue dimensioni un po più piccolo ti faccia concorrenza dopo quindi guardare il calendario guardare per tempo cioè prima non il giorno della scusami non il giorno della semifinale della coppa dei campioni esattamente quindi sì 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 calendario esatto hai fatto bene a fare questa specifica perché della tua zona ma non vuol dire di eventi che fisicamente sono nella tua zona perché nella tua zona magari anche se non si gioca la finale di champions league interessa la finale di champions league così come che ne so è la finale di amici la serata di sanremo eccetera eccetera ma ci sono una serie di eventi che possono a seconda di quello che altro tipo di evento e poi è chiaro che se dipende da quello di cui sta parlando però insomma guardare bene quale può essere la concorrenza e se capisci che è più forte di te cercare di evitartela ecco insomma non ha senso andare a sgomitarsi questa è la prima cosa la seconda si potrebbe essere cercare di avere un po buoni rapporti con con tutti adesso non mi ricordo la seconda domanda che mi hai fatto se potevo raccontare qualche episodio di una delle cose più importanti sicuramente badare al calendario essere un po lungimiranti per quanto si può e fare sì che non ci siano eventi di concorrenza e questa è una delle robe più importante mi viene in mente un'altra un'altra cosa che vuoi un altro un altro tipo di di cosa che vuoi evitare quando organizzi che vuoi devi stare attento quando organizzi una festa prima di raccontarci un episodio se te lo ricordo e ma ora più che una cosa da evitare sì c'è una cosa da 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 fare prima cioè darti un certo tipo di identità secondo me se il tuo evento ha un'identità è un qualcosa di un certo tipo è chiaro che quando sei a non sei b quindi ci sarà escluderai delle persone però ne attirerai altre gli eventi che in un certo modo non sono né carne né pesce quindi e non si capisce se è una cena se è un aperitivo se è una frase si balla se non si balla se è un posto per rimorchiare se è un posto per prendere droga quando vuoi essere un po di mente ti viene in mente qualche esempio che ti ha fatto ridere di queste stazioni in cui non è carne e pesce senza fare ma sì guarda ci sono alcuni posti che sono così ma in realtà poi mi vengono in mente perché ce l'ha cioè ci sono posti che funzionano perché l'identità non è tanto su questa cosa ma sul tipo di età cioè il posto in cui che ne so vanno i diciottenni ci vanno tutti i diciottenni perché c'è solo quello e quindi l'identità qual è è legata ai diciottenni quella faccia però i posti che cercano di essere tutto sono quei posti che sono che sono vuoti e molto spesso poi si sentono i titolari lamentarsi sui social o sui giornali e il governo non ci aiuta e il sindaco non ci aiuta è colpa del terremoto è colpa della pandemia e dopo un po ne ho visti alcuni che come dire in anellare magari fallimenti per dieci anni è sempre colpa di qualcos'altro del terremoto alla pandemia e del sindaco della destra la sinistra del governo a un certo punto che sia che colpa tua che forse non sai fare mai tra tutte queste cose non ti è mai venuto in mente che tra tutte le sfighe forse ho capito e quindi cosa ti viene in mente come un episodio che magari è stata con una conseguenza di di una organizzazione meno accorta che magari che non dipeso da te che dipeso da qualcun altro senza fare il nome naturalmente ma guarda c'è stato un episodio in cui insomma bene o male c'è stato un periodo in cui come tutte le cose anche le cose di nicchia hanno dei periodi in cui vanno più di moda rispetto ad altre quindi c'è stato un momento in cui prima metà degli anni dieci tra il 2012 e il 2014 direi insomma abbiamo avuto qualche anno veramente molto molto forte dove comunque bastava annunciare la data e sapevamo che era un successo veramente pista piena e feste bellissime insomma dove gente davanti a ballare fino ai 4 5 di mattina quindi insomma c'era parecchia attenzione verso la nostra festa ma come normale che sia ma non perché eravamo the next big thing ma perché semplicemente tutti quelli quando c'è qualcosa che funziona vogliono cercare di soprattutto in zone piccole di in un qualche modo tra virgolette accopiarsi o comunque insomma cercare di fare partnership ma come normale che sia insomma qualcosa funziona e ci cerco di mettermi un po vicino il problema è che è una festa nostra di nicchia quindi è difficile associarsi a qualcos'altro ha un'identità molto forte su questo tipo di musica ed è difficile legarsi ad altre cose da noi il focus è esclusivamente quello quindi la musica è un genere di musica e però insomma c'era un altro gestore di eventi gestore di feste che insomma faceva feste nella zona eccetera quindi insomma viene a chiederci un tipo di partnership per insomma fare un po di dp e raggio per alcune sue feste a noi andò bene anche perché bene o male erano genere musicale simile non era in competizione con la nostra insomma ci ha riconosciuto anche una certa cifra di di come dire di 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 entrata per questo lavoro di di caparra di non mi viene il termine di di commissione chiamiamola così per i biglietti che riuscivamo e tra l'altro le nostre feste sono sempre state gratuite questo era una pagamento quindi sono anche diverso e insomma in virtù di questo verso carnevale ovviamente noi eravamo mentre nostra feste insomma chiesti di non di non pestarci i piedi quindi di non farci le cose quindi per noi era automatico questo sì 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 che la festa di carnevale siccome l'avevamo annunciata noi e lui detto ok va bene la facessimo solo noi invece è sbucato che praticamente lo stesso locale dove la facevamo noi la sera prima la faceva anche lui quindi capisci che due feste di carnevale l'uno prima dell'altra insomma ci siamo rimasti un po male e abbiamo capito come dire che lì c'era due anime diverse cioè la nostra era giustamente di persone che lo fanno per hobby per passione quindi giustamente quando si impegnano lavorando è giusto che guadagnino qualcosa ma non era il nostro lavoro dall'altra parte con qualcuno un po più tra virgolette navigato un po più squalo anche forse che insomma doveva fare il suo e ha deciso comunque di fare il suo ma sappiamo che in quell'ambiente di organizzatori di feste si trova un po di tutto ci sono persone splendide persone meno splendide persone anche scorrette insomma è noto che è un ambiente del più facile trovare una varietà di elementi o la possibilità questa persona però insomma finisco l'aneddoto mise questa festa noi ci rimanevo male ma capimi insomma che probabilmente sai è un accordo un po come dire così a parole non aveva messo nero su bianco i termini in cui ecco voleva dire non far la festa lo stesso giorno ecco comunque lui piazzò la sua festa che era a pagamento con biglietti in prevendita e non vendette e quindi come spesso accade quando non si vende in prevendita un certo numero di biglietti si annulla quindi la sua data fu annullata e ci presimo la nostra rivincita non è che poi noi gli abbiamo fatto la festa contro di lui cioè noi abbiamo messo la nostra festa poi abbiamo scoperto che c'era la sua però la rivincita è stata vedere che la nostra invece è stata un successone e la sua è saltata perché evidentemente la gente preferiva andare al nostro preferire andare da altre parti insomma comunque alla sua non aveva preso non aveva fatto tante prevendite e forse anche era anche una conseguenza al di là di come è successo anche di una crisi di identità che è importante giusto avere avere un'idea precisa di come ti vuoi rappresentare o quello che è se vuoi prendere tutto alla fine non prendi niente forse sì sì c'era anche un dj di fama nazionale adesso non faccio il nome per non mettere elementi che possono portare però aveva messo un dj di fama non un nome grossissimo però un nome insomma conosciuto e però sai sono funzionano molte volte queste dinamiche in cui il nome non ha in dinamiche locali la gente quella sera lì va tutta la festa di tizio caio alla festa di di là di là anche magari feste private e le feste anche ben organizzate come era poi la sua nulla da dire però non prendono una tentazione di domanda da farti perché mentre parlavi di queste feste di organizzare in discoteca mi è venuto un mi sono ricordato di quando ero alle superiori e mi ricordo certi compagni che venivano in classe con gli inviti della discoteca adesso non mi ricordo anche in ritano c'erano non mi ricordo più i nomi di con le discoteche alcuni fanno anche ridere come nome lo sai sono delle discoteche che hanno dei nomi che fanno mi piacerebbe ricordare tra l'altro beh qui c'è tutta una geografia nel senso la nostra festa è già una festa revival però l'epoca d'oro appunto di quando poi cominciò questa dance era già l'epoca d'oro delle discoteche che era partita ancora prima soprattutto nord italia veramente nascevano come funghi un po anche per un edilizia anche un po facile in cui sai pianura padana c'è tutta campagna non è che c'è tanto da battere quindi ma esatta di cemento costruzione di nomi tipo l'ultimo impero sì oppure pocosissime robe ma dentro anche con degli arredamenti suntuosi ma anche queste zone industriali abbandonate un po tristi tipo capannoni magazzini tipo silenziosi nella periferia o quello che è anche per non disturbare vicini ma io mi ricordo da poco tempo fa noi siamo andati a bergamo e avrei visto la foto di quella discoteca dove saremmo dovuti andare quella notte l'olimpus e l'olimpus se andate a vedere olimpus bergamo è la rappresentazione plastica di queste discoteche di cui stiamo parlando questa roba molto sontuosa un po la scarface tipo colonne però magari un bellissimo posto non ci siamo potuti andare anche perché per una creenza di taxi e di non si capisce bergamo non si capisce a un certo punto bergamo cioè c'è da andare a letto e se per errore sei rimasto in città alta una certa ora c'è il coprifuoco di fatto non puoi più uscire giusto per così espandere l'argomento e però chiudere subito di ci sono interi gruppi facebook ma anche pagine siti internet che fanno questi reportage di queste discoteche abbandonate e ce ne sono tantissime nel nord italia perché è un po passata di moda questa epoca delle discoteche era ancora un po non dico bombo economico però sai primi anni 90 giravano ancora magari tanti soldi e c'era la moda delle discoteche proprio poi vuol dire è passato un po la moda cambiate un po certe dinamiche economiche eccetera e quindi sono diventati delle cose insostenibili come come costi anche perché ambienti non erano fatti col bonus 110 per intenderci quindi ambienti che d'inverno costavano una caterva per riscaldarli e già da maggio costavano un occhio della testa per raffreddarli con l'aria condizionata quindi ce ne sono un sacco abbandonati e c'è tutto questo filone di nostalgia appunto di quella che era quell'epoca lì ma ma hai detto bene ma poi se c'era questo anche tutta questa tradizione di nomi sontuosi o tipo anche un po pacchiani o quello che un altro stereotipo di queste situazioni qua era il proprietario della discoteca io ho visto io non io a cagliari non andavo spesso in discoteca ero un po controcorrente a questo punto di vista però mi ricordo alcuni proprietari perché non avevano indicati cioè sembrava il proprietario era sempre un po quello che sembrava il cliente vestito come sedicenne quindi però magari sui 40 si capisce che situazione a casa tipo divorziato consente e immagino tipo col jeans magari coi proiettili proiettili le scarpe magari a cagliari all'epoca giravano tanto le ogan che era questa questo brand io le chiamo le chiamavo scarpe dell'handicappato perché sembrano delle scarpe ortopediche con l'acca poi non so se siano di della valle non importa basta vedere come si veste della valle per per evitarlo quindi l'ultima persona da cui volesti comprare qualcosa da mettere della valle per come si presenta va bene torniamo nell'argomento il giubbottino che all'epoca stavo uscendo il moncler era agli inizi la busta la spazzatura e poi era sempre così il cagliaritano proprietario discoteca questo capello lungo un po alla ti ricordi alla pippo in zaghi e poi i primi sub all'epoca quindi o il cayenne magari oppure questo sub di secondo a mano perché perché mari non sono dovuta comprare il nuovo e poi no a me sembrava quello che vedevi in bagno che si faceva le piste cioè non era 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 il cliente in bagno della discoteca che si faceva le piste e uno ti avrebbe detto ma guarda che quello proprietario a ok c'era questo stereotipo anche al nord io parlo del sardegna assolutamente abbiamo anche noi conosciuto diversi sul genere ma diciamo che il vuol dire lo stereotipo comunque il non so come il fenotipo non so come si può dire il gestore medio ricalca un po queste fatette qui quindi un personaggio che giustamente deve anche essere un po inserito nel clima da discoteca perché non può sembrare un grigio deve sembrare uno che la vive però in mezzo un po di tutto e sempre molta creatività insomma adesso senza volere accusare uno di però insomma è risaputo che parliamo di di un settore che ha dichiarato tipo non mi ricordo con il covid perdite per non mi ricordo quanti milioni di euro a fronte di qualcuno che ha fatto un'indagine tramite delle entrate e ha visto che il dichiarato in realtà tipo inferiore di un sacco in meno quindi sì nel senso un posto dove insomma si è anche fatto parecchio ne erano già parecchio e rosso ma anche regami a volte con la malaviglia ma c'è un po di tutto questo non stiamo dicendo che tutti i posti siano così però è sicuramente un ambiente come si dice da noi c'è una fauna molto variegata e quindi i personaggi ce ne sono stati diversi anche perché poi parliamo ci siamo detti prima gli anni d'oro delle discoteche sappiamo che spesso erano anche alcune insomma luoghi di luoghi di spazio luoghi di certo comprare consumare ma poi c'era molto spesso era anche molta malavita ecco molti gestori erano anche con la malavita la malavita controllava molto spesso non soltanto in italia non so come funzioni adesso tu sei più più frequenti ancora discoteca o quello che è però attraverso i bouncer attraverso i bodyguards controllava l'accesso quindi aveva tipo molto spesso dei gruppi criminali fornivano dei bodyguards o i stessi bodica questa è una cosa che mi ricordo molto magari anche fino all'inghilterra negli anni 90 essex quelle cose lì c'erano gli spacciatori che erano i stessi bodyguard che formavano delle dei gruppi criminali in cui certo punto facevano racket di avevano racket di sicurezza per le discoteche che gli permetteva di decidere chi poteva entrare spacciare molto spesso spacciavano loro quindi sì nel senso è una situazione è una discoteca è un po come è un posto dove puoi raccogliere delle informazioni prima mano sul vero sottosuolo della città cioè è un posto che può essere il posto dove ti diverti un casino ma può essere più sporco di tutti dal punto di vista di quello che si può fare dal punto di vista dei intrecci delle cose o quello che insomma sono cambiate molto adesso no no ma non dicevo non aspetta all'epoca effettivamente secondo me erano veramente molto più come stai dicendo tu un spaccato adesso forse meno però all'epoca attorno al discorso che facevi in italia credo che la professione del butta fuori comunque della detta la sicurezza si è arrivata anche molti anni dopo il ritardo cioè all'epoca ero un qualcuno che prendevi uno grosso che ti sembrava sapesse dare due sberle e diventava il butta fuori cioè non è che c'era tanta professionalità della cosa torniamo alla domanda bomba che ti volevo fare perché ti ricordo quando ti avevo detto che mi è venuto in mente questo flashback dei compagni di classe che portavano gli inviti della discoteca al char al charlie anche nome ambiguo se capisci cosa portavano mi ricordo ancora mi ricordo ancora l'odore degli inviti una cosa tipo grande con una cartolina all'epoca interessante sì le grafiche le cose quest'ora appena stampato quest'odore e questa roba di carta per la stampata e poi soprattutto in classe era e lascia passare per la figheria nel senso che chi aveva questi inviti era figo perché prima parte che c'era era l'epoca dei 33 10 degli oakley delle cose lì e dello scarabeo questi inviti che dovevano darti perché sì c'era tutto quel legame anche lì di pierraggio in cui bene o male avevi la commissione quindi chi entrava col flyer con la cosa un certo tipo con le liste servivano per poi assegnare le commissioni a chi ti aveva fatto entrare quindi c'era tutta una dinamica piramidale vedi queste cose qua però nell'ottica dei pischelli delle superiori questa cosa la capisci tu la capito da organizzatore però io non la sapevo quindi quasi mero io io invidiavo molto questi personaggi qua che venivano con inviti perché era un era un modo per come dire avevano gli occhi addosso da tutti erano i figli della scuola poi in pratica probabilmente erano dei pezzenti dal punto di vista di che tipo di privilegi avessero quindi la domanda è questa avevano gli occhi addosso di tutti e di tutte quello che perché attraverso gli inviti e quindi come dire questa da organizzatore delle feste all'epoca avevamo 17 anni 16 17 tu hai un pubblico magari anche che non è non sono così giovani esclusivamente però tipo il 1 del gruppo che organizza queste feste qua è considerato un figo come quando no o no è ancora così non lo so c'è ancora questo fascino nel senso tra tra i giovani d'oggi è che non conosco poi benissimo però mi pare di capire che ancora che organizza feste viene visto un po come adesso si chiamano influ a di là che lo siano o meno però insomma vengono detto influencer ancora insomma chi organizza è ancora un figo chi gestisce qualcosa ancora queste dinamiche se vogliamo di di potere o di seduzione verso gli altri ecco quindi c'è ancora questa cosa qui probabilmente sono cambiate un po le modalità sono cambiate i canali eccetera però ad esempio questa cosa comunque dell'avere gli inviti gli inviti sono pochi devi chiedere prendere erano già quella che adesso viene chiamata scarsiti cioè cercare di rendere esclusivo un qualcosa e quindi sei figo se ci sei sei figo che ce l'hai al di là del fatto che non so stampare 500 volantini stamparne mille non ti costa c'è un cazzo di più cioè non cambia eccetera però l'idea comunque di rendere un qualcosa esclusivo e renderlo comunque sempre come dire al limite per fare in modo che il tuo esserci vale di più cioè tu ci sei e quindi tutti gli sei meglio di tutti quelli che sono fuori e quelli che sono dentro sono pochi quindi dà più valore a quelli che sono dentro ed è ancora così quindi queste dinamiche ci sono ancora anzi adesso non parliamo di di feste di discoteche però in generale di o perlomeno non solo anche con gli eventi di musica è esplosa questa bolla che poi era già nota realmente ai lavori dei finti sold out ovvero per rendere appetibile delle date di un artista gli si mette fuori un calendario di non so 10 15 date e poi si riduce l'hp quindi io prendo un posto figo tiene 5.000 persone riduco la capienza con degli scamotaggi a 3.000 non lo dico vendo 3.000 biglietti faccio sold out a cazzo ha fatto sold out al che ne so al bloom di assago per dire a tiene 5.000 persone sto dicendo numeri e luoghi a caso in realtà ha fatto sold out con 3.000 però parte la notizia va sui giornali esco le grafiche sold out qui sold out la sta facendo un sacco di sold out in quest'epoca di comunicazione delle post verità si crea la nomea la fama che l'artista stia andando un casino in un qualche modo invece no e invece magari sta andando ma stanno meno normalmente però si creano queste cose di ho capito volevo volevo buttarti un'altra provocazione ma questa è una cosa un'altra cosa che mi ricordo abbiamo oggi abbiamo un'altra cosa che mi ricordo questa le foto pubblicate delle ragazze non soltanto ragazze 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 e ragazzi in tiro allora io mi ricordo molto spesso c'è questa è una cosa che forse per il mio anticonformismo volte esagerato mi faceva mi faceva già incazzare soltanto vederla questa roba qua forse perché forse perché non c'ero non c'ero io nel gruppo volevo esserci perché magari c'erano molti contatti molte situazioni quello che è mentre noi eravamo alternativi sfigati e soli quindi probabilmente mi incazzavo perché non c'ero dentro però anche oggi non mi piace mi fa un effetto totalmente contrario di qualcosa di positivo vedere queste foto non lo so atti sono un povero pazzo posso dirti che siamo molto simili questo anche io ero in casa probabilmente perché volevo esserci ma non tanto per esserci delle foto perché a noi ci interessava le tip diciamo la verità degli album delle cose ricorda questa discussione che poi in realtà all'epoca dei ricordi era l'epoca ancora qui anche noi stessi la nostra ingenuità molto spesso ma poi lo facciamo ancora oggi magari lo facciamo su instagram e non su facebook però i primi tempi in cui ero a londra pubblicavo un po delle foto eccetera mie di cose varie che vedeva a londra c'è anche foto di amici di cosa c'era anche tu probabilmente insomma e allora mio fratello tipo chiamandovi uno di quelle qualche chiamata su skype o ma io vedo solo delle gran foto di braga su facebook braga è lo slang per dire maschi ma guarda io con le tipe mica ci faccio le foto e poi non ci facciamo un cazzo comunque però no infatti io sono testimone di non è successo nulla quella no esatto chiaramente comunque l'idea che noi non c'è mai interessato apparire in quanto apparire a noi ci interessava al limite apparire se serviva per poi dopo scopare ma poi vorrei anche precisare una cosa sono foto che se uno può andare a vedere adesso nel mio profilo quelle che risalgono al 2011 magari c'è un bar tedesco sotto terra la tovaglia a quadretti la birra e queste facce tipo bomba buon temponi non è questa pompa l'era non la chiamavamo così a cagliari non so se un termine che abbiamo coniato noi conosce questa questa pompa l'era di di paillettes di roba in tiro di cose di mille denti e di cioè quella quella la foto quella le fotografie quelle che ha fatto detto fratello delle fotografie che potevano appartenere all'album dei 883 quando finivano a casa col camovi ma che non volevano certo unicare tanto di diverso da quello che era la realtà c'è la presa 8 quando si mette una foto comunque volentemente qualcosa per cari però abbastanza vicino alla nostra realtà queste foto che regnavano tra l'altro in quel periodo lì dei primi anni di facebook 2010 ed intorno e poi adesso magari ci sono meno questi album moni di duecento foto però ci sono venti instagram stories tutto uguali dove balliamo quelle paillettes dove ci facciamo e il dry e l'effetto boomerang col drink e tutte queste cose qui e vogliono ostentare o manifestare questa sorta di appartenenza all'esclusività al fatto che sono qui con lo champagnino col don perignon quindi mi posso permettere oppure vestiti nel localino faccio la bella vita sono sono figa sono figo sono riprese anche la declinazione un po al femminile c'è anche la declinazione al maschile che è magari meno scintillante da un punto di vista di paillettes di culi di fuori però comunque è tipo il macchinone il panorama eccetera eccetera che poi un altro piccolo dettaglio non so cosa vedi tu però io mi ricordo in queste feste c'erano questa era una cosa un po terrificante penso ne abbiamo parlato già ne parliamo di nuovo in queste foto di questi magazine che erano tipo sardegna lucini non mi ricordo questi magazine dalla reclama della pizzeria si passa al reclamo del meccanico e poi alla fine ci sono le foto questi giornali questi giornali strani di cui non mi ricordo il nome molte di queste foto ma nelle discoteche a poetto del lungomale di cagliari o magari nella zona industriale al star schiacci non mi ricordo come cacchio però queste foto qua vedevi giri grossi di ragazzi e poi vedevi un uomo tipo messo in mezzo così magari a volte anche da queste facce interessanti strane tipo barbe tutti i rasati però con questa barba tipo non so personaggi strani facce strane poi dei zoom troppo per troppo vicini per certe per certe facce però cos'è vedevi questa abbondanza di donne e ti dicevo molto spesso che non c'era questa cosa di parità di un gruppo di uomini un gruppo di donne che vengono fotografati e tipo c'è un numero quasi pari di bilanciamento più o meno c'è questa situazione un po claustrofobica che appartiene a quei giorni lì di questi gruppi come dire abitudinari di andare in discoteca in cui devi entrare nel loro giro quindi quell'uomo che vedi con quelle cinque donne vuole fare la figura che guarda sono circondato da cinque da sei belle ragazze ma per non essere volgari non gliene frega niente nessuno lui perché è l'amico che le ha portate lì con la macchina la cosa è il pippo come chiamiamo noi è il pippo che nel senso che tipo l'ultimo arrivato che come dire circondato da queste ragazze che ci hanno messo tipo sette ore per prepararsi bellissime o quello che però la foto non dice la verità non è che lui è tipo blitzerian o cioè non è lui è tipo è scarto lui probabilmente ci prova con una delle cinque da un sacco e le altre gli danno tutti i consigli le altre sanno benissimo che questa qui non ci sta ma non è che gli fanno la cortesia di gli guarda chiamiamolo pippo appunto perché guarda pippo oppure guarda filippo ora che federica federica non gli piace ma quello che io non lo faccio no ma guarda che ma prova a parlarle prova prova andare cioè gli alimentano queste false speranze e gli danno corda e alimentano questo giro eterno che va avanti per mesi e mesi e mesi fino a che un giorno lui non lo so capisce si rompe il cazzo oppure oppure non capisce non capisce non lo so però come dire portano avanti perché mentre lui le porta di qua esce di qua e fa l'amico lui non si sente solo a piangere in casa sua però gli viene da piangere in queste discoteche comunque e loro comunque non si sentono sole perché fa comodo comunque insomma poi adesso anche qui giusto per dare giustizia per parlare cioè siamo ancora in una sono passati magari tanti anni da 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 queste serate discoteche degli anni 90 qui parliamo ma ancora oggi comunque essere ragazzo in discoteca è scomodo perché arriva quello molesto arriva certo quindi avere comunque un maschio in un'italia comunque ancora sessista e maschilista eccetera comunque in disco alcune discoteche poi anche avvengono anche degli episodi brutti altre magari no però c'è un sessismo latente eccetera fa comodo avere un maschio lì certo certo alla bisogna e qui se vogliamo a fin di bene può essere è il mio amoroso e qui a fin di bene quando serve per tutelare una situazione quando invece diventa arriva uno che cerca di attaccare bottone come come si può voler fare in un qualunque posto che sia un bar alle 8 di mattina che sia una discoteca e tu prendi lui per fare il mio amoroso eccetera insomma ma hai detto benissimo questa cosa qua perché del ragazzo che può servire a tante cose perché solo magari negli ultimi anni negli ultimi 50 anni magari poteva essere l'amico però se si entra se si va le generazioni molto prima di quelli che andavano in discoteca magari anni 60 o quello che sento storie magari in sicilia o magari anche al nord la la delega ce l'aveva il cugino all'inizio perché era dentro la famiglia quindi l'amico poi sarebbe arrivato dopo quando sarebbe un pochettino allargata o smaiata questa questa tunnel vision di pericolo di cose quindi all'inizio però era il cugino il cugino giampiero che prendeva che bravo giampiero prende le porte tutte perché quella la madre di della tua cugina lo ammazza giampiero c'è giampiero a tipo sette o sei donne sotto occhio quello che è e poi le porta magari a mangiare la ricotta verso le otto del mattino certo quelle cose boss le paste vabbè poi diventato l'amico va bene detto bene pure tu le donne mai sentito però anche c'è anche tanti coglioni che vanno a rompere le scatole magari non ci sanno non ci sanno fare o quello che è però sostanzialmente il ruolo di questo personaggio che abbiamo parlato è un lavoro non sta andando discoteca non sta andando discoteca il portafoglio è diventato una fisarmonica praticamente perché è perché quanta benzina ha messo per andare a prendere la pazienza e il fatto che lì a darle un'occhiata a queste qua è un po responsabile e quindi sostanzialmente lui l'unica personaggio gli unici personaggi che possono resistere in questo ruolo qua sono quelli che non sono accorti quelli che magari hanno qualche problema hai capito non sono accorti perché io non ti ci vedo a te che tipo non ti ci vedo a te che per per sette o otto serate o nove o dieci ti porti in giro queste mandrie guarda non nego che siano capitate serate di questo tipo ma era chiaro la situazione in cui come dire mi stavo piegando a un compromesso ed era quello di fare quest'uscita per cercare di quando probabilmente non avrei dovuto già farlo insomma e probabilmente era già chiaro che che non ce n'era per me però comunque io fatico sempre comunque sono un po della scuola fino alla fine forse perché sono un po sono un po lungo anche negli approcci eccetera quindi mi sono capito serate così ma episodico vedere fatta una capito che non è che ce ne sono due cioè a un certo punto comunque per quanto io sia lungo non solo lungo di anni nel senso magari perdono le occasioni ma non trascino fino alla fine nel senso no esatto perché ripeto quelle quella situazione là da questo personaggio qua un motivo per sentirsi a modo suo integrato capito il questo personaggio che si che si prende cura di queste ragazze quello che però come dire vederle nel 2022 queste situazioni che poi ci sono travestite in tutte le parti della società del personaggio che magari di cui la gente se ne approfitta non è che deve essere solo in discoteca però vederle nel 2022 come ancora è una cosa insomma che sa molto di antico vero al di là che cattiva o buona sa molto di di molto old school questa roba del tizio che si porta la marta francesca la sabrina sabrina non la prendiamo e portiamo anche sabrina però sostanzialmente sì 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 no ma è vero e poi ci sono anche sì questi personaggi non so in cui per carità ognuno fa quello che quello che vuole quello che però a volte ci sono persone che giocano con questa ambiguità del tipo sono l'amico gay non sono l'amico gay non lo so ci sono delle situazioni che non sono ben chiare o vivi e lascia vivere ognuno fa giustamente quello che gli pare però sì non so sono un po non so come dici tu utilizzate non lo so ecco non non mi sa più di una dimensione personale in cui giustamente uno esce con chi vuole fa quello che vuole ma comunque vuole o deve per un qualche motivo mettersi in mostro essere funzionale ad altro di e al di là che noi non ci ritroviamo ecco tutto qui non è che vogliamo dire che no ma anche ma poi comunque per le cose per andare avanti ci deve essere un po di opportunismo perché insomma come detto tu il ruolo di questo personaggio anche di salvaguardia della sicurezza e quindi cioè le ragazze senza di questo non ci vanno non escono tra l'altro poi io mi ricordo non so tu mi devi raccontare della 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 routine l'abitudine quella del centese delle parti di bologna quello che io mi ricordo per sentito dire che c'è la mangiata al ristorante c'è queste certe persone che non avevano i soldi magari il muratore la cosa a cagliari però avevano questa questa filosofia che anche romantica mi piace però in due giorni si sputtanavano tutte punta da capo ristorante a pesce pasta arselle cose trattati ristorante tra l'altro puoi andare a ballare dopo il ristorante tipo quindi ristorante a cagliari la trattoria solitamente non necessariamente ristoranti incredibili la trattoria mari con coi scudetti del cagliari e poi tipo la discoteca dopo dopo la discoteca ma già tra trattoria con un con la galanteria dei uomini che magari vogliono pagare quindi quello che è trattoria discoteca drink in discoteca atti lo sappiamo che non è come andarle a prendere nel negozietto della signora amanda dal frigo anzi noi se andavamo in discoteca bevevamo prima si arrivano già bevuti arrivano già brilli quindi c'è questa roba qual è la routine nel centese del pre discoteca il dopo discoteca quali sono gli orari e se c'è questo culto ancora del farsi vedere che c'eri sicuro ma dello sputtanarsi un bel po di soldi in due giorni assolutamente allora parto lo sputtanarsi i soldi sì c'è proprio un po la cultura del tipo no sono già uscito questo weekend non esco cioè delle due come dire si esce uno due weekend in meno ma quando si esce si gioca tutto questa nonostante crisi eccetera chi può c'è ancora quest'idea del sbocciare o comunque mostrare che si sbocci perché adesso come dire è molto meno male nell'apparenza quindi dove si può si va a mostrare qui apro e chiudo una parentesi cioè questa gondola venezia che è diventata famosissima perché praticamente una gondola che permette di passare da una parte all'altra di un canale cioè c'è una zona non so bene dov'è ma se uno cerca su google la trova in cui i ponti sono lontani e evidentemente la gente spesso aveva necessità di passare da parte all'altra quindi si è messo lì un gondoliere a fare la sponda la spola da una parte all'altra si vede che appunto si sta lì a farlo ma c'è se c'è offerta c'è anche stata domanda no è diventata famosa col tempo per questo era diventato il trucco degli delle e degli influencer per fare il giro sulla gondola praticamente questi qui e questo 2 euro perché veramente fa due remate dall'altra parte quindi un servizio di 10 secondi se ci pensi anche 2 euro per 10 secondi insomma è un prezzo giusto peso 2 euro pochissimo in realtà ci mette 10 secondi devo dire al minuto fa già non so dei 6 euro se 6 euro al minuto fallo per un'ora insomma vedi che vabbè quindi è diventato un po è diventata famosa perché era il trucco è noto come trucco di influencer per fare la foto sulla gondola quindi questi qui facevano le foto a venezia facevano vedere la foto sono in gondola in realtà erano 10 secondi in gondola parte all'altra questo per dire che tante volte quello che si appare più del non lo so del tipo prendo la bottiglia vi faccio una foto con la bottiglia magari la bottiglia abbiamo divisi 15 del bicchiere indietro pieno due dita eccetera ecco queste cose qui sì esatto oppure la foto in cui sembra che io sia sulla spiaggia deserta la tazzo molti gente dietro tutte queste robe detto questo negli anni dieci qui in zona penso anche magari da cagliari però è qui da queste parche è esposo molto il business legato al food quindi tutto il mangiare perché si è scoperto che bene o male si può fare parecchio margine o perlomeno si poteva quindi le discoteche che una volta no tradizionalmente da mezzanotte in poi eccetera molto spesso sono state anticipate e chiamate disco dinner in cui ci si va fin da cena e quindi queste cene iper sciccose dove in realtà ovviamente mangi con la posata luccicante il piatto in ceramica ma ti danno due sputi in un piatto e paghi comunque tipo a tutto incluso è però 30 euro posato incluso che è un prezzo anche onesto da trattoria il problema è che mangi poco mangi male perché ti servono persone che non sono cambiando non c'è dietro un ristorante con quello che è tutta la gestione che conosci bene di un ristorante anche incentrato sulla qualità quello un posto dove vai per far serata quindi tutti arrivano più o meno gli stessi orari mangiano più o meno le stesse cose quindi comunque le robe arrivano un po fredde un po un poco però non si mangia mai bene quindi rapporto qualità prezzo è sempre sconveniente però è funzionale locale uno per fare cassa già da subito e due per avere già delle persone lì quindi quando sbaraccano i tavoli il posto è già pieno cominci a stussare con la cassa il posto è già pieno quindi la gente che arriva dopo vede un posto pieno entra nel posto pieno e si va e quindi queste cene qui diventano situazioni di brindisi foto di sbocciare cene da shake in realtà se vai dallo zio tonio in provincia frazione di cannavasso di cui nome che non esiste esisterà forse senti le bestemme della cucina però mangi di più mangi meglio e spendi meno ecco che belle le bestemme della cucina un posto genuino no no c'è troppo tiro quindi anche lì c'è un po troppo tiro se tipo volevo volevo chiudere volevo lasciarti così ci buttiamo a letto voi sembra che siamo insieme la stessa spazio invece si separa ci separa l'europa tu sei in teoria parlando lì dentro io sono fuori è un grande letto è un grande elettone è un letto di schengen comunque mi ha fatto piacere parlare di questa roba qua perché c'è sempre tanto da ridere tra l'altro volevo chiederti qual è la prossima se se puoi dire il nome della dell'organizzazione con la quale insomma organizzi feste e quando è la prossima così per chi è nel centesimo guarda volentieri allora la festa l'abbiamo chiamata dance mania party ed è volutamente un nome che pesca volutamente ingannevole quello che nell'ambito dei marchi viene chiamato look alike cioè vuole sembrare quello che era it mania dance che era la famosa compiletta esce ancora in realtà escono queste compilation si penso edicola o anche perché ci disse li comprono in pochi però tipo quattro cd ormai vanno di quantità che all'epoca era comunque l'epoca ancora ai primi anni 2000 fino al 90 l'epoca dei cd era una delle dire compilation madri cioè essere lì dentro eri eri come essere in una classifica top top 20 insomma quindi in mente atti velocissimo scusami quello di vel6 tifai velocemente ma quindi si chiama dance mania party se qualcuno se lo vuole cercare facebook instagram sui due social dove dove siamo presenti non siamo al trovo perché come ho detto insomma è una gestione molto semplice quindi la limitiamo a questi due canali e la prossima festa al momento non è fissata, però siamo in parola, già andiamo molti là, però per l'estate 2023, siccome abbiamo avuto un buon successo, ma non tanto noi, ma per l'associazione che ci ha ospitato, sono stati contenti loro, quindi sono loro a dire che per loro è stato un buon successo, poi noi se siamo piaciuti o no ce lo dirà chi è venuto, però insomma molte persone sono venute a questo evento, nel luglio 2023 a Pieve di Cento e ci vorrebbero richiamare da questo scoop per i pochi che ci ascolteranno e ci piacerebbe diventare insomma tra gli eventi residente tra virgolette della festa, è una festa annuale, è un evento che si ripete di anno in anno, quindi questo potrebbe essere il prossimo appuntamento, spero ce ne siano prima e quindi che la gente seguendoci da Facebook e Instagram possa vedere quando saranno le prossime date, potrebbe esserci un qualcosa ad aperitivo verso settembre a 100, ma così ancora in costruzione, in aperitivo è un contesto un po' diverso, quindi magari si balla meno, si ascolta di più, però insomma siamo sempre noi. Spero di venire pure io, di esserci pure io l'anno prossimo in discoteca, se non finisce il mondo. Sarà il tema probabilmente della prossima puntata, sì, perché oggi come sempre si improvvisa, perché sono chiacchiere da bar, quindi dovevamo parlare in teoria di un bel tema che hai messo su, che era quello dell'orologio dell'Apocalisse, ma ne parleremo probabilmente la prossima volta se siamo ancora vivi, visto che tante cose stanno succedendo nel mondo, quello che è magari questo finale da radio. Vabbè, comunque... Questi secondi che si separano alla mezzanotte, noi un po' li abbiamo spesi per parlare della musica dance, per parlare delle serate in discoteca e di tutte le serate che bene o male abbiamo fatto così arrivando alla mezzanotte e poi andando oltre, quindi l'obiettivo è che andiamo oltre comunque. A noi brucia ancora, quando eravamo a Bergamo, per chiunque ci si ascolta, per il sindaco di Bergamo che ci sta ascoltando, che il servizio taxi ci siamo fatti prendere per il culo da tutti i giovani di Bergamo. Quella notte erano diventati la barzelletta e tutti i giovani che erano sparpaiati qui e lì per la città e noi andavamo da un gruppo, da un taxi, ma sì, provate questo numero. Insomma, non è successo nulla, non siamo riusciti a raggiungere quella discoteca che è l'Olympus, che dalle foto sembra che rispetti lo stereotipo di quelle di cui parlavamo e quindi ci brucia ancora questa roba di Bergamo, no? Sì, sì, possiamo fare un appello. Adesso non voglio entrare. E magari dopo, e sarà una puntata se a parte, se lo so che sono cose complesse, parliamo di gente che lavora e quindi, come dire, se ne parla da bar e dietro ovviamente ci sono tante realtà molto più complesse. Però oggi, e l'abbiamo visto anche a Bergamo, dal nulla, con un'app riesci a prendere, a farti portare da mangiare ovunque tu sia, più o meno adesso, senza entrare. È possibile che, non possa essere la stessa cosa anche per i taxi. Non voglio fare pubblicità, adesso dico Uber per dire il più noto, però non è che per forza dobbiamo parlare di Uber, però non può essere che, al di là che il servizio sia di Uber o sia dei taxisti tradizionali, però che si possa raggiungere la stessa semplicità e anche efficienza. Cioè il fatto di riuscire a trovare un taxi in tempi ragionevoli che possa portare a fare pochi chilometri, a prescindere che uno sia Bergamo. Io credo che dobbiamo arrivare a queste cose anche perché, insomma, e qui ci ricolleghiamo al prossimo tema, abbiamo questo orologio dell'apocalisse che si avvicina alla mezzanotte, uno dei temi più grossi è quello ambientale. È ovvio che quando non ti puoi fidare di mezzi pubblici o cose, sei portato a usare i mezzi tuoi, ma se puoi condividere dei mezzi pubblici, chiaramente, insomma, l'inquinamento è generalmente meno. Quindi è anche un qualcosa verso quest'ottica. Possiamo riuscire un po' a mediare un po' tra quelle che sono giustamente le istanze di chi lavora, dei tassisti, di Uber, di tutti i cazzi e mazzi che ci sono, che non abbiamo bisogno per parlarne, però c'è anche un... non è soltanto un senso di due sfigati che volevano andare in discoteca, però c'è anche un senso un po' più ampio, ecco. Sono totalmente d'accordo e ti dico che eravamo talmente, come dire, dentro questa situazione, quando è successo, che erano verso le due, meglio che l'una o le due, scendendo da Bergamo Alta per trovare un taxi per andare in discoteca, erano talmente dentro questa situazione che io mi ricordo un commento tuo che era... che era... che rivelava, insomma, il fatto che quasi si sentivamo fuori luogo noi. Tu avevi detto, ma sarà perché giovedì? Cioè, noi stessi ci sentivamo fuori luogo, abbiamo scusato la città, che era giovedì, non era venerdì, era giovedì, quindi mobilità. Era colpa nostra. Era colpa nostra. Poi siamo, come capita spesso, saliti sul ciottolato da un colpo di... invece un colpo al pallone, un colpo a una latta di... quelle situazioni da... 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 serata, insomma, siamo divertiti tanto comunque. Forse è stato un bene che non siamo finiti all'Olympus, mettiamola così. Massimo, è stato bello comunque. È stato bello comunque. Ci sentiamo questi giorni, ti auguro una buona giornata domani. Anche a te altrettanto e grazie che hai voluto ascoltarci e passare del tempo con noi in questi ricordi sparsi tra tra gli anni 90 e l'Olympus di Bergamo. Non si sa mai di quello che arriviamo a parlare. La prossima volta non si saprà neanche mai. No, no, ma è sempre così, anche a microfoni spenti. Non si sa mai di quello che arriviamo a parlare. È un po' un pericolo. Prima di tutto per noi stessi, poi anche per gli altri, però... E soprattutto pochi peli nella lingua. Latti, ve lo ricordate oggi, ha fatto una richiesta formale verso la città di Bergamo alla fine. Ma non solo. Io qui parlo al Presidente del Consiglio, al prossimo a questo punto. Sì, atti molto, senza peli sulla lingua. Prossimo Presidente del Consiglio, non sapremo chi è. Atti quotidiani. Atti quotidiani. Dai, un abbraccio, a presto. A presto, ciao. 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 Grazie.